Hi everybody, benvenuti a tutti in questo nuovo video dopo quella che è stata un po' la pausa estiva non voluta perché sarebbero dovuti uscire due video sul canale nelle due settimane in cui sono mancato uno di questi due è quello che state per andare a vedere ma anche se li ho registrati prima poi non sono riuscito a fare in tempo ad editarli e tutto, diciamo che ho avuto, sono stato un po' ottimistico sul tempo che ci avrà impiegato a editare e renderizzare e tutto quanto quindi questo video lo state vedendo adesso allora, come sono andate le vacanze? Tutto bene? non pensate troppo a caldo che se no impazzite, fa troppo caldo, decisamente comunque, quello che state per vedere è il video del secondo evento del torneo di Mercedes su Gran Turismo Sport gara 1 perché poi sono riuscito a passare nella gara 2 perché vedrete in che posizione sono arrivato a fine gara grazie anche a un colpo di fortuna strabiliante bellissimo, sono stato fortunatissimo mi dispiace qualcuno davanti ma ne ho approfittato e poi ci sono state anche delle belle bagarre dietro soprattutto tra due piloti che mi sa che si sono un po' incazzati tra di loro però, vabbè, sono tutte cose che possono capitare quindi, ho ottenuto il format per il quale il video simula una gara vista in diretta dalla tv perché il video precedente mi è piaciuto un casino come è uscito fuori e mi piaceva riprovarci per vedere se riuscivo a migliorare ancora di più spero vi piaccia grazie a tutti 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 grazie a tutti